Musica Rande amore Dimmi che mai Che non mi lascerai mai Dimmi chi sei Che sei il mio unico grande amore Vieni vieni Ragazzi si è iniziato bene il video Come ho mandato qua sotto La foto del commento La sfidi Che manu di... ecco non mi si vede Aspettate lo aggiusto Allora All'inizio mi avevo chiesto di ballare la salsa Io Mi hanno venuto di ballare la salsa Cantando il volo E l'ho fatta Dunque ragazzi questo qui è l'ospite speciale Si chiama Leonardo Saluta Ciao E hi bro Qua è spirit tag Ed eccoci qua il primo episodio del fuck you Ragazzi Fa il culo Fa il culo Fa il culo E ora si deve andare a posare questa roba Perché sennò Va bene ragazzi Ora si leggeranno Delle domande E poi vi lascerò una domanda Che dovete rispondere in settimana Per il prossimo Fakiu Ragazzi non lo so se lo farò Una volta a settimana O una volta a mese giusto? Vero? Una volta a mese è meglio Ora si vanno a vedere i commenti Non so se si vede Ci si legge di molto Allora iniziamo Organizzazione ragazzi Ma mi avete scritto anche su facebook Sono contento Sono arrivato un casino di commenti Casino si Allora vediamo un po' Allora prima domanda Fakiu time Hai mai incontrato Stepney in giro? Bene si ragazzi Ho incontrato Stepney Anzi tutti i mates A chi interessasse L'ho incontrato al canal da show Infatti c'ho anche le loro firme Che vi farò vedere Che c'ho qua sotto Cioè A questa appiccione il tiro ragazzi Comunque ho visto anche l'anima Questa qui è la loro firma C'è anche quella C'è ragazzi c'hanno due Quindi c'è anche la firma di Suri Se non sbaglio Sì di Suri E di tanti altri youtuber Al canal da show che ho trovato Tipo ciccio gamer Giochi Quindi ragazzi Stata un'esperienza bellissima Ho ancora notato il mio video Stepney Per chi non lo sapesse Che altro video invece? Dile un po' Al popolo di youtube Che altro video? Minecraft Per le posizioni in Minecraft Sugli al power Ragazzi sui al power E per le mod Luke Allora Passiamo alla prossima Domanda Allora Ask Speedy Prima domanda Allora Come è nata la tua passione per youtube? Salutimi stronzo Vabbè Stronzo non sono Comunque ti saluto No stronzo è Ha detto bene Stronzo è proprio Sì sì Come no Comunque ciao avalanche Allora La mia passione per youtube E' nata dai Cioè da quando Proprio sono nato Che Sì infatti Oh non te ne E' da quando Che sono nato Che Mi piacciono i miei giochi Io sono progetto Da gameboy A nintendo di ice E alla playstation Ragazzi Ho giocato a molti giochi E' una passione ragazzi Che mi piace E voglio trasmetterla Vieni da qui dentro Vieni Voglio trasmetterla a voi Per farvi almeno Sorridere 5 Cioè 5 minuti 5 No 5 10 minuti 5 minuti Allora Saluto Matt Burrx Che mi dice Ask Allora Ask Spini D'accordo a giochi a LOL Perché non lo sapessi Che Per chi fosse ignorante Vuol dire LOL Vuol dire League of Legends E' un gioco di ruolo Allora League of Legends Gioco da 3 o 4 mesi Sono Oro Ma è quello che ci hai fatto Lo speciale Si Speciale 100 iscritti Bravo ragazzi Non si ricorda Che lui E' un fan Sfegatato Del mio canale Vabbè C'è anche la maglietta Cos'è scritta A chiedermi se volete fare una partita con me Si fa E presso di portare anche lui sul LOL Anche se non sa farà giocare Ma Non insegno io Eh non so Allora Passiamo alla prossima domanda Ragazzi Cerco di rispondere a tutti Allora Ricky Ask Speedy Perché non porti più LOL Allora ciao Ricky Non porti più LOL Perché Ci vuole troppo tempo Bravo Semplicemente per il fatto che una partita dura Da 50 a 60 minuti Io non sono più a livelli bassi Quindi anche più difficile E mi ci vuole ragazzi più tempo Io non ho tanto tempo Perché ho anche la scuola E tante cose da fare E Cerco di portare Cioè come ho detto nel video Lo speciale Lo porterò Qualche volta Ma non sempre Conto a vosso Allora Andiamo su Un'altra domanda Saluto Menis Dica Allora Qua scrive Cosa ci fa in tv In mezzo al mare Va in onda Cioè Io ragazzi Le battute così in studio La potete La fare Come la tende da sole Soprono la solitudine Ciao ma ragazzi Qua ci si mette anche lui Allora no Questa è benzina Questa è benzina No no Io mi do fuoco Se vuoi Se lei No questa è benzina ragazzi Allora Allora Passiamo alla prossima domanda Ask Speedy Prima di tutto Saluto Dei Jake No Dei game jakes Allora Ask Speedy Se potessi cambiare il nome del canale Come lo chiameresti Speedyman Gianfranco Perruzza Ho risposto a tutte le domande Chi è Gianfranco Perruzza? Non lo so Il nome del canale a casa Allora Wesney Nacca Fa la domanda Ask Speedy Perché ha iniziato YouTube Ragazzi Semplicemente perché mi piace Se no che lo faccio Inizio YouTube Perché non lo so Mi fa schifo Perché vuole avere Vienzo Vuole essere famoso Ragazzi Drogami Mignoti Io so di cui ci penso Penso solo La figa No A parte quello Faccio un video per passione Anche è una passione innata Ma io lo conosco da tanto Che ci sto ragazzi Eh Sì Allora C'è le domande di Mario Cano Che fa Fuck Speedy No Che fa Che ragazzi Eh vabbè Lo stesso Allora Che finisce Nutella Orocioc Questa è la vera Domanda della vita Allora Ragazzi Scendo La nutella C'è ragazzi Ovviamente Ma i aeroscioc E' faccio Sono Di cose così Per chi ciò E' faccio Sì sono buoni Ma non so La ragazza Ma troppo bella C'è senza confronto Ma non c'è Lasciate like Per la nutella Like Dai Policione in su Allora Come è brutto Mettete anche qualche Dislike Allora Arriva un'altra domanda Che fa C'è senza Lastag Ask speed La prova Bene Lo stesso Ragazzi Allora Allora Prima salutami Metti Metti Di rosetto rosso E canta Con queste Non Che ti caci Allora Il rosetto rosso Non c'erò Quindi Non Un po' Un po' Non Non La sponda Credevo che Se ne fossi Ma vaffangulo L'uscita L'abbro Mascara Allora La canzone che mi piace La canzone che mi piace Si canta insieme Ave Maria No io non lo conosco Vabbè ragazzi Passiamo No ma se me lo deve Fa far l'amore No Vedrai Vedrai ragazzi Ave Maria Ragazzi Sarremo 2017 Passiamo ai commenti Di facebook E ci vediamo Ok ragazzi Ok ragazzi Eccomi qua Erby computer Ragazzi Eccomi Erby computer Infame Infame Allora Mamma mia Allora Allora Un'altra domanda Ce la va Yazid Chilis Scusami se non ho pronunciato mai il nome Ti saluto E allora Come mi scrivi Allora Mi fa un sacco di domande Perché hai iniziato a fare i video su youtube Questo ho già risposto Per chi mi piace Allora Chi ti ha mandato questo hobby Cioè ragazzi L'ho scoperto Mi l'ho fatto scoprire Un amico Eh Qua sono Che telefono E va bene ragazzi Eccoci qua E adesso è andato il telefono Allora Eravamo rimasti Le domande Chi ti ha mandato questo hobby E allora ragazzi Stavo dicendo che me l'ha trasmesso Che me l'ha trasmesso Un mio amico Che si chiama Gabriel Paciello Lo saluto E ragazzi Me l'ha trasmesso lui questa passione E ho visto Cioè Ho visto Che Le video di youtuber E mi sono piaciute E quindi Anziato Ce l'ho pensato Ragazzi Ma perché Non mi iscrivo A youtube E mi faccio un canale E l'ho fatto Allora Hai mai detto una bugia Per non Far star male Una persona Sì ragazzi L'ho detto Perché Semplicemente Per il fatto Perché Non volevo perdere Questa persona Ma anche a lui Glielo ho detto Stavanti Come dire È bello Perché Cioè Veramente Guardate un po' qua Cioè Quello qua Lo sta male Ma che stai Devo Comunque Mettiti più qua Perché I telespettatori Non ti vienano Allora È meglio Allora 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 Vorresti mettere il tuo nome No ragazzi Mi piace così Tra l'altro Lo c'è Ma se uno Se uno va su google E scrive speedy taglia E trova le macchine Da di comandare Eh va bene Che me ne importi Ragazzi A me piace Stavolta Allora Ci fa un'altra domanda Luca Turi Ask speedy Che cosa vorresti cambiare Di te Su youtube Beh ragazzi Di me vorrei cambiare Non tante cose Però vorrei cambiare Cosa è il mio frattore No Maria io esca Allora No Vorrei cambiare Cioè vorrei essere Cioè vorrei portare più contenuti Cioè Non c'è di stare Eh Extra Vorrei avere più tempo Ecco questo Di altro Altro non vorrei cambiare Allora Eh Poi facciamo Fa un'altra domanda Federico Policastro Ask speedy Di cosa potresti mirare Smiley Ragazzi Sulle skybox Devo mirare sulle skybox E sulle costruzioni Perché sono una pippa ragazzi Perché lui fa pena Però Anche io fa più pena Sulle skybox Fa più pena Di lui Sì ragazzi Però un po' Che non ciò L'ultima domanda Ce la fa Leonardo latino Allora Altro speedy A me pensato A cosa può cambiare Una sua vita Se diventasse un famoso youtube Eh ragazzi Eh Moni moni Sarebbe un sogno Ragazzi Sarebbe un sogno Grazie allora Per i tre guardi 150 iscritti Comunque Ma Ragazzi Sì No 150 Sì ragazzi Cambierebbe un pochino Perché è un sogno Che si potrebbe realizzare O non si potrebbe realizzare Non si sa Comunque Boh Sì Ci sta che cambi Però Non è che Esco fuori di casa Non so di chi mi escono No Solo dal punto di vista Dei soldi Ma se no Se ti piace Va bene Anche se c'hai due iscritti Va bene Infatti Allora Il video faccio Per oggi È finito La domanda È di oggi Cioè Il prossimo faccio è Ma vi piace la pasta al ragù Beh Ma vi piace la pasta al ragù Vabbè ragazzi Il video di oggi Può finire Lasciate il like Commento E iscrivetevi al canale Bravo Qui da Spiritiger E Leonardo Campioni È tutto Bella Ciao